Io mi chiamo Ruggero Po, sono giornalista, farò il moderatore. In questo panel ci occupiamo della transizione verde quindi delle misure e delle proposte dell'Unione Europea per il passaggio verso la neutralità climatica. Io chiedo se devo aspettare di vedere anche gli altri due ospiti europei. Prima di cominciare mi chiedo... io non li vedo però... ah eccoli qua. Buongiorno. Buongiorno Evi. Buongiorno. Buongiorno anche a De Carli, è lei De Carli. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. E gli altri ospiti che abbiamo qui di fianco a me sono Luca Di Gianfrancesco che fa parte del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile ed è il consigliere diplomatico del Ministro Enrico Giovannini e poi c'è Luigi Di Marco dell'ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Dunque noi discutiamo in quest'ora del tempo di una nuova Europa, come dice l'intero programma di lavori e quindi delle possibilità e delle opportunità che dovremo sfruttare in questo decennio per attuare le cose che ci vengono chieste e i goal che sono stati stabiliti. La scadenza tra l'altro individuata sei anni fa con l'Agenda 2030 è la stessa, si parla del 2030 e il 2030 è anche l'anno che l'Unione Europea, che è la Commissione Europea, mette come punto d'arrivo per il Fit for 55, quello che individua le azioni specifiche per la riconversione verde per il raggiungimento della neutralità climatica. Io vorrei cominciare questo nostro dibattito ricordando ai presenti, ricordando anche ai ragazzi che sono qui, che i loro interventi sono graditissimi, quindi li invito a intervenire. Vorrei cominciare con l'Europa e vorrei cominciare con il Capo Unità degli Affari Regali e dei Rapporti Interistituzionali della Direzione Generale del Clima. Qua mi sto rovinando con i miei fogli stessi. Buongiorno, buongiorno di nuovo, dottor De Cardi. Buongiorno. Io vorrei cominciare con lei e cercare di capire insieme, proprio con l'esponente della Direzione Generale del Clima per la Commissione Europea, se l'obiettivo del 55% entro il 2030 sia un obiettivo fino a che punto ambizioso, quindi fino a che punto sia ipotizzabile, sia lecito pensare che si arriverà a realizzarlo. Comunque ricordando anche che dal 1990 a oggi noi abbiamo abbattuto poco più del 20%, quindi insomma le cose da fare sono tante. Quindi quello che le vorrei chiedere intanto per cominciare, se ritenga che sia possibile raggiungerlo o se no, come seconda domanda, dove sia pragmaticamente lecito pensare che si possa arrivare. No, noi siamo quasi sicuri che si può raggiungere un obiettivo molto ambizioso, ma come ricordava lei abbiamo già tagliato del 25%, è vero, dal 1990, ma comunque con una forte accelerazione negli ultimi anni. La seconda cosa è che mentre abbiamo tagliato le emissioni del 25%, il nostro PIL è cresciuto del 50%, quindi dimostriamo che è possibile avere un modello economico in cui la crescita e la qualità, la qualità della crescita e la qualità dei posti di lavoro aumentano mentre tagliamo le emissioni. Ora, 55, da dove viene? Come ricorderete quando la Presidente von der Leyen si è fatta eleggio dal Parlamento europeo, ha fatto due promesse sul clima. Uno è di mettere in legislazione la neutralità climatica per il 2050, saluto l'onorevole Evi che è stata parte dei negoziati di questa legge e l'altro appunto è di aumentare l'ambizione per il 2030, eravamo al meno 40%, l'abbiamo portato al meno 55%. Ora, metterlo nella legislazione nel giornale ufficiale è relativamente facile, bisogna farlo, come lo facciamo? Stiamo rivedendo tutta la legislazione dell'ambiente, del clima, dell'energia per aumentare il livello di ambizione di questa legislazione, che siano le quote carbone dell'ITS piuttosto che i trasporti, piuttosto che il settore delle terre. Secondo, mettiamo la mano al portafoglio, perché come sapete quasi la metà dei fondi del Recovery Fund sono condizionati a degli investimenti nell'economia verde, investimenti da fare nei prossimi 3-4 anni e quindi già attraverso il Recovery Fund facciamo un grande passo avanti nel cambiare la base produttiva e il tipo di crescita che vediamo in Italia e in Europa. Lei ha citato l'economia verde, io vorrei a questo punto passare la parola all'onorevole Evi, sempre per rimanere in Europa, è eurodeputata del Parlamento Europeo, della Commissione Ambiente e Energia del Parlamento Europeo. Quindi focalizzando sull'economia verde e anche sulle indicazioni per uscire dal carbone, questa roadmap, onorevole Evi, secondo lei è particolarmente accidentata? Allora, intanto una precisazione, in realtà non c'è nessuna roadmap per uscire dal carbone a livello europeo, nel senso che il mix energetico è compito degli Stati membri definirlo, quindi è ciascuno Stato membro che definisce che cosa usare. Altro conto sono gli obiettivi climatici che dobbiamo raggiungere, questi sì certamente ce li stiamo dando a livello europeo e devono essere solidi e io già su questo ho chiaramente qualche dubbio, noi come Verdi abbiamo denunciato fin da subito che il taglio del 55% di gas a sera al 2030 è un taglio che si potrebbe rivelare non sufficiente, non lo diciamo noi, ce lo diceva la scienza, lo dicevano gli scienziati dell'IPCC che davano per l'Unione Europea un obiettivo del taglio di riduzione dei gas a sera del 65% ed è infatti motivo per cui poi il Parlamento durante i negoziati, sapete i famosi triloghi, quindi quel momento cruciale in cui si trovano Parlamento, Stati membri e Commissione e il Parlamento lì difendeva una posizione più ambiziosa del 60%, ormai la legge è fatta, la legge europea sul clima è adottata e quindi abbiamo questo importante taglio di almeno il 55% e io ci tengo qui a dire che mi auguro che il pacchetto Fit for 55 che forse dovremmo ribattezzarlo pronti per 1.5 che sono i gradi che noi non dobbiamo assolutamente superare entro fine secolo, le misure di cui si parlava prima, quindi quelle concrete, la legislazione che è stata, che ora è in fase di revisione, quindi la direttiva sulle rinnovabili, la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva sulle PS e tutta un'altra serie di misure importantissime ci devono dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista di Verdi, portare in un percorso per superare questa cifra del 55% e lo possiamo fare e dal mio punto di vista lo dobbiamo fare, tra l'altro ci tengo anche a sfatare una cosa che molto spesso sento ripetere, ovvero che noi europei abbiamo fatto già molto bene i nostri compiti a casa, abbiamo ridotto molto le nostre emissioni, infatti ovviamente questo è vero, ma molto spesso certi politici soprattutto tendono a sottolineare questo dato, ovvero che l'Unione europea a livello globale incide soltanto per il 10 o l'8% di gas serra, ecco questo è una base di partenza, di ragionamento fuorviante, perché in realtà i nostri consumi di europei sono molto molto di più, ci portano ad avere delle emissioni che di fatto vengono realizzate in altre parti del mondo, ma che sono colpa nostra, responsabilità nostra ed è il motivo per cui è molto importante che con la nuova legislazione non soltanto noi andiamo ad intervenire su una riduzione settoriale dei vari settori, ma andiamo anche con coraggio a affrontare tutta la questione legata ai nostri consumi. Prima di passare agli interlocutori che ho qui, comunque stiamo tutti insieme fino alla fine, perché ho intenzione di chiamarvi in causa tutti, vorrei tornare a decarli alla direzione clima, proprio per riprendere l'osservazione che mi ha fatto lei alla domanda sulla roadmap, lei mi ha detto magari ci fosse una roadmap, ogni paese va a modo suo, a questo punto vorrei chiedere a chi sta nella direzione generale del clima se ci crediamo tutti allo stesso modo noi 27 e quindi come ci stiamo muovendo noi singoli? Sì, guardi, sui 27 ci credono tutti, ovviamente è sempre facile puntare il dito a qualche paese meno ambizioso dell'altro, si dice i paesi dell'est hanno fatto di meno, hanno anche un reddito pro capito è molto più basso che l'Italia, che la Germania, che altri paesi europei, quello che è vero è che ci sono diverse velocità del cambiamento, quindi tutti sono d'accordo sugli obiettivi europei, ci sono dei sistemi europei che sono uguali per tutti, gli standard per le automobili sono uguali per tutti da Lisbona a Bucharest, gli standard di quanto costa emettere il CO2 nell'atmosfera, dare delle industrie pesante, costa uguale in qualsiasi punto d'Europa, ci sono degli obiettivi un pochino più locali come il trasporto, la rinnovazione degli edifici e queste cose in cui la Bulgaria ha un obiettivo che è più basso dell'Italia, è vero, allo stesso tempo la Bulgaria ha anche una crescita che è più elevata dell'Italia e quindi lo sforzo che deve fare per tenere basse le sue emissioni è comunque uno sforzo considerevole. Sì, veniamo qui al tavolo a Luca Di Gianfrancesco che è, ah non la conoscevo personalmente, Alessia Rotta, benvenuta Alessia Rotta, è Presidente della Commissione Ambiente, sospettavo che fosse lei ma non ero certo, ora lo sappiamo. Allora, prima le lascio tempo di ambientarsi un attimo e prima vorrei chiedere al consigliere diplomatico del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, proprio nella sua funzione di diplomatico, prima ancora che di appartenente al Ministero delle Infrastrutture, se l'Europa e fino a che punto l'Europa sia in grado di trascinare gli altri attori globali, perché l'Onorevole Evi ci diceva che l'Europa insomma influisce 8-10%, ma c'è tutto il resto, c'è tutto il resto del mondo. Grazie Dottor Po, tolgo la mascherina. Buon pomeriggio a tutti innanzitutto, un ringraziamento sentito anche da parte del Ministro Giovannini per l'invito e per l'iniziativa e un saluto naturalmente agli altri correlatori del panel. Credo che come hanno già, per rispondere alla domanda, credo che come hanno già anticipato i relatori che hanno parlato prima di me, l'Europa non solo può svolgere questo ruolo, ma direi che deve e che in parte lo sta già facendo, perché la proposta comunque del Fit for 55 è una proposta molto ambiziosa, molto strutturata, multidimensionale che investe numerosi livelli. Ci sono 16 proposte, come sapete, di modifico, introduzione di nuove regolamenti e direttive, i cui lavori si articolano lungo 8 tavoli che sono già avviati o stanno partendo a Bruxelles, di cui a livello nazionale in Italia il MIMS, cioè il Ministero per le Infrastrutture e le Mobilità Sostenibili, coordina la partecipazione a tre di questi, che sono in specie quello sul cosiddetto regolamento AFIR, cioè regolamento sulle infrastrutture per i carburanti alternativi, per semplificarla il famoso tema delle colonnine di ricarica, anche se non si esaurisce naturalmente solo a questo, e i tavoli del Refuel Aviation e del Fuel EU Maritime, quindi i temi dell'aviazione e del settore marittimo. Quindi c'è un ruolo che è già direi molto pronunciato e che si è visto anche in modi diversi nei principali fori internazionali, anche quelli recenti, qui abbiamo assistito, la COP26 ma anche il G20, che sono... Chiedo scusa, spero di non dover ricominciare da capo per tutti voi. Quindi dicevo anche nella COP26 e nel G20, dove l'Unione Europea partecipa comunque da anni, la Commissione come di fatto membro aggiunto, associato, ma insomma svolge un lavoro di squadra molto forte con i membri poi, con i paesi UE che fanno parte, che partecipano a questi formati, lo si è visto. Naturalmente la collaborazione con gli altri attori internazionali sarà fondamentale, quindi a partire dagli Stati Uniti, che sul punto che sollevava prima l'onorevole Evi, cioè anche delle abitudini e dei consumi pro capite, se ho capito bene il senso anche del suo intervento, naturalmente sono tra i principali contributori, chiamiamolo così, alle emissioni, sarà fondamentale e da questo punto di vista penso che sia un'ottima notizia il ritorno di un'amministrazione che ha mostrato di credere e di investire sul multilateralismo e che ha varato anche recentemente nell'ultimo mese delle misure di indirizzo molto significative. Penso alla long term strategy sulla transizione varata dall'amministrazione Biden e per tornare un po' più nel mio attuale campo, perimetro di attività, di interesse, anche il pacchetto infrastrutture da 1,2 trilioni di dollari sui prossimi dieci anni che va visto in un'ottica d'insieme anche con il pacchetto su jobs, il provvedimento social e il provvedimento appunto clima che dicevo prima. Naturalmente c'è poi il tema della Cina, adesso non vi ammorberò andando a sviscerarli uno ad uno, ma chiaramente il tema della cooperazione internazionale è fondamentale e non si riduce semplicemente agli attori principali, ma sicuramente questi dovranno svolgere un importante ruolo di traino, di esempio e anche di responsabilità nei confronti del consesso internazionale alla luce delle loro responsabilità attuali e anche passate, perché evidentemente come sapete c'è anche un tema che viene spesso rinfacciato soprattutto al mondo occidentale di essere i paesi che più hanno contribuito finora storicamente al tema dell'inquinamento e dell'emissione. Quindi sono temi complessi, sono problemi complessi, ma credo che il dato positivo e che deve indurci comunque ottimismo e che c'è la consapevolezza, come è stato detto anche prima, dell'inedudibilità della sfida e l'esigenza di affrontarla, di risolverla tutti insieme. Sì, passiamo all'Italia. Onorevole Rotta, Presidente, lei è Presidente della Commissione Ambiente a Montecitorio. Ci stiamo chiedendo di fronte a questi obiettivi che la Commissione Europea ci ha dato a luglio col Fit for 55, come ci si possa arrivare. Innanzitutto abbiamo cominciato, se sia lecito, credere che ci si possa arrivare tranquillamente. Quindi vorrei capire anche da lei, da 1 a 10, fino a che punto è fiduciosa che possiamo giungere a questo obiettivo. L'Onorevole Evi diceva più che al 55% è ancora più importante mirare all'1.5, che è l'aumento della temperatura da non superare. Ma a lei vorrei chiedere, proprio per la sua posizione di Presidente della Commissione Ambiente al Parlamento italiano, che cosa occorre fare, fino a che punto è lecito aspettarsi decisioni importanti, anche perché sappiamo che per costruire le infrastrutture che serviranno anche a produrre più energia rinnovabile bisogna intervenire sul territorio, andando a forzare probabilmente anche quelle che saranno le resistenze di chi sul territorio ci sta già. Grazie, scusate il ritardo, ma eravamo appunto in commissione. Grazie dell'invito e complimenti per l'organizzazione, perché io penso che eventi come questi servano ad uno degli elementi fondamentali per rispondere alla domanda. Per farcela il nostro Paese, come tutta l'Europa, come tutti coloro che sono impegnati, diciamo, devono cambiare un po' di rapporti di forza, posto che questa non è un'opzione, quella della transizione, è una strada obbligata che noi percorriamo a marce forzate, perché il tema dell'urgenza, io sono reduce da Glasgow e dalla Precop qui in Italia, dove ero appunto relatrice, e questo tema dell'urgenza, anche se poi magari non ha avuto le conseguenze auspicate in termini di risultati, così come tutti abbiamo lamentato, ma questo tema dell'urgenza è proprio. E dicevo che per me la precondizione che questo riesca, anche nel nostro Paese, ha bisogno di un cambio di condizioni, che cosa intendo dire, nel rapporto tra istituzioni e al loro interno, ovvero citava il tema delle autorizzazioni. Per raggiungere degli obiettivi noi dobbiamo accettare, capire molto bene, ma passare alla reazione che questo che ci accade è come una meteorite, questo tema dell'urgenza e di dover cambiare passo in un Paese particolarmente incrostato sotto molti profili, che noi siamo soliti chiamare con un termine che rischia di coprire di nebbia, che è quello della burocrazia, io credo che la transizione ecologica e digitale serva anche invece a dare un nome specifico a tutti questi temi, a metterli in ordine e a correggerli spinti da questo tempo che non abbiamo. E quindi dicevo dei rapporti, rapporti tra le istituzioni al loro interno e quindi tra Stato centrale e le varie pezze dello Stato centrale, perché è noto a tutti uno dei temi centrali è quello della transizione energetica e delle energie rinnovabili. Sappiamo bene che oggi nel nostro Paese per l'autorizzazione di un impianto ci volevano sette anni e un tempo che non è congruo né con il Next Generation, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma non è congruo naturalmente con un Paese civile, perché gli investitori di cui abbiamo bisogno scappano. E quindi questo tema autorizzativo, come siamo intervenuti? Siamo già intervenuti in parte con decreti di semplificazione, con delle innovazioni in termini legislativi nel nostro Paese, se pensiamo ai poteri sostitutivi che lo Stato si è dato nel caso in cui non si rispettino dei termini e dei tempi per dare delle risposte e questi termini diventano perentori. Direi che è abbastanza una novità in un Paese in cui molto spesso le istituzioni si bloccano tra di loro, si prendono più tempo, naturalmente un tempo che deve essere congruo, perché nulla deve essere sottovalutato in termini di effetti... Negli ultimi tempi, anche se su altri settori, ci stiamo abituando a un certo decisionismo che comunque ci vorrà, farà bene. Necessariamente ci vuole. Abbiamo visto come a marce forzate sono state approvate delle riforme in altri ambiti, in questo caso penso alle riforme della giustizia che attendevamo da anni, non solo grazie ad una maggioranza diciamo piuttosto larga ed inusuale per il nostro Paese, ma soprattutto per i tempi d'attesa che aspettavamo. Dicevo, mi continuo a perdere in parentesi, ma è perché mi appassiona. I rapporti tra istituzioni e loro interno, tra istituzioni e imprese, nel nostro Paese deve cambiare perché le imprese saranno fondamentali naturalmente nel rispetto dei loro diritti, ma anche dei doveri che hanno le imprese, ma sono fondamentali senza impresa che sono coinvolti in questo. Noi non riusciremo a mettere a terra, con questo termine non ho ancora trovato un sinonimo, non mi piace molto, anzi per niente, ma è difficile. Ma il terzo attore fondamentale sarà portare a bordo i cittadini. Non intendo solo alla fine di un percorso, intendo dire che i cittadini devono essere parte attiva, non intendo solo il tema del dibattito pubblico che pure finalmente si introduce con maggiore forza nel nostro Paese, altri Paesi sono più avanzati su questo, ma dico che senza la consapevolezza e senza la partecipazione dei cittadini non arriveremo da nessuna parte. Mi permetto un esempio che non ha a che fare con il Fit for 55, ma proprio ieri uno studio fatto molto bene da Ambrosetti sull'acqua, loro hanno come focus quello idrico, hanno stilato dieci contraddizioni da uno studio approfondito delle relazioni delle persone con le risorse, dove emerge che i cittadini italiani sono molto consapevoli della sfida e dell'urgenza della sfida e vogliono partecipare, sono preoccupati, ma rischiano di essere paralizzati dalla paura di dire dobbiamo cambiare, non sappiamo cosa fare e poi soprattutto non sono consapevoli, come la maggior parte di noi, per cambiare abitudini, tutti noi, non è solo una questione di abitudini evidentemente, ma il comportamento di ognuno serve e serve, e serve essere consapevoli di quello che dobbiamo fare e in ordine a che cosa lo facciamo, cioè per dire che la nostra acqua è una delle acque più pulite d'Europa e noi siamo il principale paese in termini di consumo di acqua in bottiglia, quando la nostra acqua è potabile, solo il 29%, 29,3% beve acqua dal rubinetto. Intendo dire con questo esempio apparentemente fuori campo che io penso che o ci mettiamo in questa ottica di mettere a parte tutti allo stesso modo, con le diverse responsabilità, chi governa ai vari livelli ha un'altra responsabilità rispetto ai cittadini, ma se non ci sarà questa consapevolezza collettiva e trasversale, diciamo che non noteremo i risultati. Comunque è un dato di fatto che l'opinione pubblica sta prendendo coscienza e sta quindi spingendo i politici ad adeguarsi a questa presa di coscienza dell'opinione pubblica, quindi questo ci fa vedere il bicchiere abbastanza pieno. Io, ecco, per rispondere brevemente davvero sull'altro punto, ce la faremo o meno. Io sono, diciamo, positiva, non ottimista, perché non è un caso di essere ottimisti o pessimisti, consapevoli delle difficoltà, e penso che lo siamo tutti molto, dicevo del tema autorizzativo, è uno dei tanti temi, e mi diceva dell'energia. Però i primi dati non sono negativi, ne cito due. Abbiamo le anticipazioni su quello che accade sul super bonus, che è solo un piccolo elemento. Secondo il PNIEC, il nostro piano di energia, che adesso deve essere rivisto, diciamo, a rialzo, noi dovremmo, per raggiungere quegli obiettivi, arrivare ad una riduzione di 0,30 amp TEP, l'unità di misura quindi di equivalenti di tonnellate di petrolio, solo con gli interventi fatti quest'anno, già, diciamo, cantierati, già spesi sul super bonus, siamo a meno 0,20, solo sul civile. Quindi capiamo che in realtà a questo obiettivo concorrono tutti gli altri settori, non solo questo. E quindi questo solo per dire di un settore. Ma, insomma, altri elementi, sempre usciti anche oggi, sullo scenario e sulle rinnovabili, nonostante tutte le difficoltà, un po' più di difficoltà sull'eotico, un po' meglio le prospettive, ma ci arriveremo anche su quello, credo, le prospettive sul fotovoltaico, dicono che abbiamo ragione di essere positivi. Sono molte le cose sulle quali ci ripromettiamo di arrivarci prima della fine, quindi spero che ci sia la possibilità. Io, prima di passare agli studenti, che sono presenti qui, al pubblico comunque, che è presente qui, vorrei fare intervenire l'ultimo degli ospiti che abbiamo in questo panel, che è Luigi Di Marco, dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che da sei anni monitora il percorso del nostro paese su quello che è il sentiero, che l'Agenda 2030 ha delineato. E ogni anno, parlo di ASVIS, riferisce al Parlamento Italiano, sui progressi e sui ritardi di quello che si sta facendo. Una prima domanda che vorrei fare a Di Marco è capire se la pandemia, con questo blocco totale del 2020, questa uscita che è sempre così difficile, che si sposta, già spostano sempre un po' più avanti, se abbia in un qualche modo creato uno stop pericoloso, ma soprattutto se abbia cambiato, sovvertito la scala delle priorità. Anch'io subito parto da positivo, grazie prima di tutto dell'invito. Parto da positivo perché assolutamente non è così, la priorità resta, i punti sono due, la priorità resta quella enunciata nel programma europeo del Green Deal, che gli obiettivi climatici e ambientali sono la mission di questa generazione. Abbiamo avuto comunque degli effetti negativi legati alla distrazione, la distrazione della politica, della società civile, dei cittadini, perché ci siamo concentrati sul tema pandemia e lo stiamo facendo tuttora, anche con l'ultima variante Omicron, tempo che magari poteva essere meglio speso, dedicato già da marzo 2020 ad andare avanti sul processo avviato con il Green Deal. C'è un aspetto però positivo che la spinta del Build Back Better, di cui qualcuno stamattina ha anche già parlato, è stata lanciata proprio grazie al Covid. il ricostruire meglio, ed è stato lanciato subito dal segretario generale dell'ONU già a marzo 2020, quindi erano le prime due settimane di lockdown in Italia, è colto in maniera rapida da tutte le istituzioni europee, infatti il Next Generation EU è stato presentato, che era due mesi dopo, a maggio, ed è stato adottato dal Consiglio europeo a luglio, ora lo diamo per scontato, ma non era scontato, e il punto di convergenza forte è stato l'accordo di Parigi, è stata la solidarietà, che sono due cose che vanno per forza insieme, perché non si va ognuno per fatti suoi, e lì si è salvata anche l'Unione europea, perché c'era addirittura anche questo rischio. Tra l'altro, un interessante atto, adottato a giugno dal Consiglio dell'Unione, è proprio legato all'Agenda 2030, e quindi collegato all'Accordo di Parigi, come molti di noi sanno bene, dove dice, il Covid ci sta chiedendo di accelerare, perché noi siamo soprattutto esposti a dei rischi che se non acceleriamo con i 17 goals dell'Agenda 2030 e gli accordi ambientali, clima, che sono collegati al quadro dei 17 goals, noi siamo esposti a dei rischi, tra cui anche le zonosi, le mettono nero su bianco, quindi paura anche che prossimamente questo fenomeno delle pandemie si incancrenisca con il nostro sistema, per cui voglio dire di conseguenza anche l'economia e tutto ciò che è legato alla nostra vita, alla quotidianità, se non abbiamo, non diamo una reazione poderosa nella direzione del Bitback Better, adottato tra l'altro poi anche dal G7 e dal G20, non ci salviamo. Allora, fine del primo giro, vorrei fare almeno un altro, e poi insomma, movimentiamoci un po', perché sono moltissime le cose da dire, ma vorrei dare intanto la parola alla platea, se non sbaglio, c'è una classe del Giulio Cesare, ho detto bene? Ho sbagliato scuola? No? Va bene. Allora, il microfono a voi, non so cosa sia previsto per farvi parlare dalla regia, se ci sia un microfono che gira per la sala, ecco lì, c'è Domenico che ve lo sta portando, quindi, avanti con le domande dalla platea. Tu? C'è timidezza. Dai, rompiamo il ghiaccio, ragazzi. Salve. Sì, per parlare ti puoi togliere la maschera un attimo. Io, mentre sentivo i discorsi dei vari relatori, mi è venuta in mente una domanda che potrebbe sembrare ingenua, io mi chiedevo se si fosse mai giunti ad una scadenza prevista da concordati internazionali e cosa fosse successo. Non lo so, se una volta visto se si sono raggiunti determinati parametri e cosa è successo se sono stati raggiunti e cosa se non sono stati raggiunti. Ok. DeMarco, è successo qualche volta che un parametro sia stato raggiunto prima del tempo? E' questo il senso della domanda che hai fatto? Mi sembra di avere capito che sia questo. Cosa succede se non li raggiuntiamo? Cosa succede se non li rispettiamo? Giusto, questa è la domanda. Non succede niente. Nel senso che non sono, anche l'accordo di Parigi non è poi di fatto giuridicamente vincolante. Però in Europa sì, perché in Europa abbiamo le direttive ancora prima della legge europea sul clima e adesso voglio dire è ulteriormente rafforzata. E allora andiamo alla direzione generale del clima europea. Quindi la domanda la giro a Luca De Carli che è il capo unità affari legali e rapporti interistituzionali. Credo che sia ancora collegato ditemi di sì perché non lo vedo a video. Lei c'è De Carli? Sì, sì, mi sentite. Ah, ok. Allora, le giro la domanda dello studente che ci ha fatto. Ecco, adesso la vedo anche e mi sento meglio io. E poi vorrei se non ci sono altri studenti ma adesso vediamo che spostare con lei ricominciando da lei anche sulla tassazione quindi sul nuovo sistema di tassazione alla frontiera e quanto questo possa utilmente integrare ciò che è stato fatto col sistema ETS. ma cominciamo con la risposta allo studente. Allora, sull'internazionale l'accordo di Parigi sì, è legalmente vincolante però come funziona? Parigi si dice cerchiamo di limitare l'aumento di temperatura a due gradi e se possibile uno e mezzo come ci ricordava l'onorevole Evi. Secondo step dell'accordo di Parigi è ogni stato può proporre quale sarà il suo obiettivo che si chiama il suo contributo determinato nazionalmente MDC e tutti i paesi dicono io voglio fare questo io voglio fare questo io voglio fare quello li metti tutti insieme questi obiettivi e purtroppo non fa due gradi di temperatura fa molto di più e questo è alla fine della conferenza di Parigi. Le varie COP servono per aumentare gli obiettivi dei diversi paesi alla COP di Glasgow se sommiamo tutte le promesse che sono fatte a Glasgow sono promesse di essere neutri nel 2050 60 qualcuno 70 promesse di aumentare lo sforzo entro il 2030 a Glasgow si parla di tagliare del 45% l'emissione entro il 2030 ecco più o meno sembra che le promesse fatte a Glasgow ci portino a tenere l'aumento di temperatura dei due gradi sia possibile qualcuno dice magari riusciamo anche a dare a 1,7 gradi adesso noi stiamo ancora facendo i conti l'International Energy Agency dice 1,7 mi pare e però ci si vede ancora l'anno prossimo così che quelli che non hanno fatto il compito a casa bene vengano con delle nuove promesse cerchiamo di tenere questo 1,5 gradi i numeri non contano niente la verità scientifica è che con un aumento di temperatura di 2 gradi ci sono dei fortissimi cambiamenti nella nostra economia nella nostra società e nel nostro clima quindi l'agricoltura nel sud Italia con 2 gradi diventa una cosa molto difficile la siccità le malattie degli alberi ma anche il tipo di vita che noi conduciamo tutti insieme quindi limitare l'aumento di temperatura porta a ridurre i rischi del cambiamento climatico che siano legati al caldo che siano legati al dissesto idrogeologico che siano legati a flash come si chiama quando ci sono i torrenti che esondano e queste cose secondo l'importazione ci ricordavano come noi comunque compriamo tante cose in Europa cose fatte al di fuori dell'Europa in Europa se uno fa acciaio cemento alluminio tutte queste cose doveva un alto forno dove devi bruciare un sacco di fuel di carburante per avere delle temperature di mille gradi ecco tutti questi stabilimenti industriali in Europa devono pagare per ogni tonnellata di emissioni che fanno per fare una tonnellata di acciaio servono più o meno due tonnellate di emissione di CO2 costano 70 euro la tonnellata quindi ogni anno mi dicono io ho emesso ex tonnellate ecco i miei certificati che corrispondono a queste mie emissioni ora se noi compriamo l'acciaio in Cina non pagano questa tassa di inquinamento o meglio cominciano adesso a pagarla non un sistema ITS il prezzo però non è lo stesso nostro prezzo e quindi questa proposta che abbiamo fatto come misura nel pacchetto Fit for Fifty Far diciamo si aumentiamo i standard europei aumentiamo il prezzo dell'inquinare in Europa però se importiamo il cemento se importiamo l'acciaio se importiamo l'alluminio vogliamo chiedere all'importatore quante tonnellate di CO2 hai fatto tu per produrre questo acciaio ne ho fatte due va bene voglio due certificati anche da te esattamente lo stesso prezzo che paga il produttore europeo e quindi ci sembra che con questa misura riusciamo anche un po' a dire alla nostra economia ti chiedo di cambiare il metodo di produzione nel frattempo ti assicuro che comunque gli altri non ti fregano in poche parole ok c'è ancora qualcuno qui in sala che ci vuole fare una domanda prego portate il microfono alla signora in verde uno degli effetti della pandemia è stato di aumentare le disparità di reddito queste disparità di reddito hanno una grossa incidenza anche sulle emissioni globali abbiamo visto da studi di Nazioni Unite che l'1% più ricco al mondo quindi solo 63 milioni di abitanti inquinano il doppio della metà più povera cioè 3 miliardi e mezzo di abitanti questi elementi come sono considerati a livello europeo e a livello anche nazionale italiano grazie abbiamo le nostre due politiche cominciamo dall'Europa dal Parlamento europeo onorevole che cosa risponde alla signora che ha posto questa questione sulle disparità di reddito e vorrei approfittarne anch'io per chiederle se lei rimanendo all'allargato sistema di tassazione pensa che questo potrà portare anche una maggiore equità e a salvaguardare in un qualche modo l'occupazione e l'economia allora questa domanda è esattamente la domanda cruciale del nostro tempo perché oltre a dover affrontare la crisi climatica che poi porta con sé crisi gemelle la crisi climatica la crisi di biodiversità la crisi di inquinamento che abbiamo ci sono altre crisi che vengono come dire portate e acuite da queste crisi che sono proprio quelle sociali e quelle delle disparità sociali ed è il motivo per cui non ci sarà giustizia climatica se non ci sarà anche giustizia sociale ed è il motivo per cui e questo va detto a un ordine vero anche la stessa commissione europea sta mettendo più enfasi sul concetto di non lasciare nessuno indietro e quindi di far sì che questa transizione verde questa transizione energetica ed ecologica sia fatta senza pesare senza come dire far sì che pezzi di società paghino di più però è un fatto della situazione attuale quella che veniva descritta prima e anche i dati europei sono assolutamente disarmanti perché li leggevo proprio l'altro giorno in realtà le emissioni prodotte dalla parte più povera della popolazione europea sono diminuite diminuite del 24% negli ultimi questi sono dati annuali mentre il 10% più ricco europeo le ha aumentate del 3% questo ci dice una cosa molto chiara che appunto le disparità sociali sono aumentate ancora di più e che non stiamo facendo abbastanza per affrontarle e in effetti nonostante come dicevo prima anche dall'Europa arrivano delle misure perché penso al nuovo fondo il social climate fund questo sarà proprio un fondo dedicato per affrontare la transizione ecologica ma vi sono anche altri fondi come il just transition fund un altro fondo dedicato per quelle aree e quei settori che sono prevalentemente e ancora fortemente legati ai combustibili fossili che devono svolgere una trasformazione e quindi cambiando il modo di fare imprese cercando appunto di rendere pulite quelle tipologie di settori e di imprese e di territori convertendo anche i lavoratori quindi facendo anche un'operazione una grande operazione di riqualificazione dei lavoratori quello che però dal mio punto di vista rimanendo sulla scala europea rischia di mancare tornando ad esempio alla proposta sull'ETS che vede appunto dal mio punto di vista ancora molte 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 lacune perché è vero che in Europa gli impianti industriali pagano per inquinare però non tutti ci sono ancora moltissime quote gratuite che dovrebbero essere cancellate e in più questo sistema dell'ETS oggi si vuole estendere non solo ad alcuni settori importantissimi che oggi non hanno pagato un euro per quello che hanno inquinato ovvero il marittimo e l'aviazione quindi bene così ma anche ad altri settori che rischiano di avere un effetto controproducente proprio sulle fasce più deboli della società e penso ad esempio all'estensione dell'ETS al settore residenziale e dei trasporti quando invece per esempio sul settore dei trasporti abbiamo già visto funzionare molto molto bene la regolamentazione che dice alle case costruttrici tu devi diminuire le tue emissioni di CO2 di tot entro quella data questo sistema questa regolamentazione è stata efficace è stata ovviamente faticosissima da raggiungere negli anni passati perché le case costruttrici ovviamente si mettono sulle barrecate pur di non cambiare i loro modelli produttivi ma oggi abbiamo e lo vedete moltissimi più modelli di auto pulite sul mercato rispetto al passato e il rischio è chiudo veramente il rischio è che queste nuove misure vadano a pesare maggiormente però alla fine sulle tasche dei cittadini e cittadini soprattutto quelli più in difficoltà e questo ovviamente non ce lo dobbiamo permettere non ce lo possiamo permettere grazie mi è stato comunicato che ho un quarto d'ora al massimo per arrivare di qui alla fine ho tre persone ho tre ospiti che vorrei parlassero e vorrei dare la parola di nuovo alla Presidente della Commissione Ambiente a Montecitorio e fare girare anche a lei la domanda sull'equità insomma come evitare di fare ricadere i costi della transizione sulle fasce più deboli anche in questo caso non possiamo permetterci se in questo momento si toglie la mascherina forse ci aiuta poi io sono sordo quindi ancora peggio dico che anche in questo caso non ci sarà transizione se non ci sarà transizione giusta perché altrimenti avremmo visto solo un anticipo di quello che diciamo quello che erano i gilet gialli che è stato il fenomeno dei gilet gialli in Francia ecco li dovremo vedere per tutta la transizione quindi deve essere una transizione giusta e le tante risorse le eccezionali risorse che abbiamo devono servire anche ad un ruolo di ammortizzatore del processo perché questo processo che appunto non è facile non è automatico porta degli scollamenti durante appunto l'estensione del processo non a caso io voglio sempre sottolineare questo il piano italiana il piano si chiama nazionale di ripresa e quindi di crescita ma anche di resilienza questo piano ancora una volta non è un'occasione è una strada obbligata per ricucire i gap che ci sono nella nostra società e nelle nostre società gap che sono si ricordava sociali che rischiano di essere ancora più aperti ma che sono anche di genere se è vero come è vero che nelle migrazioni climatiche le donne sono le prime a soffrire non sono solo il maggior numero sono le prime a soffrire anche della mancanza delle materie prime delle risorse dell'acqua e che sono di genere ecco tutto questo l'abbiamo visto esplodere poi arrivo subito in Italia brevissimamente l'abbiamo visto esplodere a Glasgow la rivoluzione al momento pacifica dei giovani gap generazionale e dei low income paesi a basso come si dice adesso a basso reddito dice che questi squilibri non sono più accettabili lo hanno detto ancora gentilmente diciamo con molta molta forza quest'anno e anche memori del fatto che diciamo il loro debito non viene mai estinto rispetto a essere stati depredati delle materie prime delle risorse ed essere i primi colpiti dagli effetti del climate change ma credo che questo potrebbe trasformarsi se la transizione non sarà giusta in qualche cosa di molto più violento io penso a due esempi si diceva sulla transizione giusta sono molto d'accordo lavorare a questo che cosa significa non mettere dei panicelli caldi penso che due delle misure però non naturalmente per fare il peana che non c'è bisogno del governo due misure vadano nella giusta direzione sono da perseguire da estendere da estendere a modello anche in altri settori ancora una volta parlo di energia uno è sicuramente il 110 il 110 è uno strumento di cui adesso si parla di decalage dovremo parlare anche in funzione di una ridistribuzione rispetto al reddito di questa misura che non è nata in quell'ottica ma che sicuramente essendo 110 ha consentito e consente alle persone di poter risparmiare sulla propria bolletta energetica in futuro il secondo elemento ancora molto democratico che io trovo è quello delle CER le comunità energetiche non a caso questi due strumenti sono stati al centro del dibattito che noi abbiamo avuto del confronto con tutte le delegazioni con tante delle delegazioni europee e non solo europee che abbiamo avuto perché appunto le comunità energetiche consentono intanto di ricostruirsi attorno alle comunità che è un tema centrale anche per il domani per tutta la transizione e di dire che se me l'auto produco sostanzialmente se creo delle unità minime su questo ho finito no non volevo interromperla così bruscamente ha detto non è rimasto fuori niente me lo conferma va bene grazie consigliere di Gianfrancesco lei è assegnato al ministero per infrastrutture e la mobilità sostenibile e c'è una scommessa della quale non abbiamo ancora parlato ma che secondo me è altrettanto difficile mi corregga se sbaglio da poter rispettare sto parlando del 2035 sto parlando dell'elettrificazione totale delle auto e dei trasporti abbiamo visto intanto le resistenze che si sono già manifestate da parte dei produttori di auto ce la faremo? spero che adesso mi sentiate un altro più difficile un altro di cronaca meglio? ecco sì allora sì il tema che lei citava sicuramente è un tema molto attuale molto già presente sulle cronache naturalmente perché è il forse il principale tema che ci ci tocca a tutti quello dell'auto anche perché insomma siamo figli di epoca in cui insomma l'automobile aveva un ruolo centrale per tante ragioni basti pensare a un dato che spiega anche la centralità del del MIMS nel quadro del PNRR come forse saprete insomma su 200 miliardi 40 miliardi sono destinati a progetti insomma che rientrano nell'orbito di competenza del MIMS a cui se ne aggiungono circa 20 sui fondi complementari nazionali e questo non sorprende perché quando parliamo di emissioni di CO2 il 25% delle emissioni di CO2 in Italia ma anche più o meno a livello globale le cifre sono simili provengono dai trasporti quindi è evidente che per riuscire ad abbattere emissioni di CO2 bisogna anche ripensare il sistema di organizzazione e di alimentazione di trasporti potremmo parlare per ore diciamo di tutte le iniziative che stanno venendo declinate nell'ambito del PNRR dalla cura del ferro sul ferroviario la mobilità urbana l'elettrificazione rifitting porti e navi la digitalizzazione dell'aviazione ma per rimanere sul tema che lei suggerì che lei ha proposto anche perché abbiamo davanti 14 anni in questo 25% delle emissioni di trasporti circa il 70% viene da autoveicoli privati e quindi è un tema che indubbiamente c'è è un tema per diciamo rimanere non ottimisti ma positivi come giustamente veniva detto che comunque è oggetto di crescente consapevolezza non solo da parte dell'opinione pubblica dei policy makers ma direi anche dell'industria perché la stessa industria si sta rendendo conto che la strada comunque è tracciata e quindi c'è anche un profilo diciamo di posizionamento sul mercato cioè se si aspetta e si lascia che gli altri vadano avanti si rimane dietro e prima ancora che dal cambiamento climatico si verrà sconfitti dal mercato quindi questa è una consapevolezza che c'è naturalmente in alcuni paesi come l'Italia è un discorso più complicato e più complesso perché siamo un paese come altri che ha un'importante industria automobilistica quindi non è semplicemente un tema comunque importante di politica ambientale o commerciale di sostituzione dell'importazione è un tema anche di politica industriale occupazionale con impatti sociali però la consapevolezza c'è è declinata diciamo nel PNRR dove ci sono già delle previsioni per quanto riguarda appunto il potenziamento dell'infrastruttura di ricarica ed è una consapevolezza che sta crescendo anche in Europa tra i nostri principali partner vorrei vorrei fare un esempio significativo il patto di coalizione del nuovo esecutivo tedesco che è stato definito nei giorni scorsi intanto si intitola dare more progress osare più progresso quindi il concetto di progresso maggiore progresso e di osare cioè di ambizione e poi ha delle cifre molto molto significative per quanto riguarda l'elettrificazione appunto dei veicoli si parla di puntare di qui al 2030 a un milione di auto immatricolate e chiedo scusa 15 milioni di auto immatricolate e un milione di colonnine di ricarica sono numeri impressionanti ma insomma che vengono da un paese che ha anche chiaramente una forte industria automobilistica dietro quindi mi sembra mi sembra che il tema sia tracciato ovviamente è una sfida molto complessa ma c'è anche un dialogo che sta avviato e che verrà portato avanti insomma tra le amministrazioni competenti tra i portatori di interesse l'industria i consumatori proprio perché insomma come tutti i temi complessi va affrontato in maniera seria ma avendo ben chiara ovviamente la direzione che è quella che tutti quanti abbiamo ricordato andiamo a chiudere con ASVIS con l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile Luigi Di Marco stavo leggendo nella presentazione a questo panel un passaggio lo ritengo molto importante e dice le misure proposte si parla del Fit for 55 saranno sufficienti a raggiungere lo scopo senza sacrificare pezzi dell'economia europea ecco c'è sempre questo dilemma andare avanti senza sacrificare pezzi dell'economia c'è un'antinomia tra queste due cose si possono mettere insieme questi due obiettivi allora io integro brevemente quello che è già stato detto la transizione verde è abbiamo cinque minuti è un'opportunità da accogliere per il sistema produttivo perché ci saranno più soldi e il Next Generation EU è solo un un aperitivo possiamo dire perché già hanno fatto i conti che per solo per gli obiettivi Green Deal ci vogliono 520 miliardi in Europa ogni anno e infatti è questa tematica in discussione anche nell'ambito della revisione delle regole per il patto di stabilità e crescita poi parte sarà danaro pubblico parte sarà anche finanza verde comunque ci vogliono e sono soldi in più rispetto ai soldi che già girano quindi saranno soldi in più che gireranno nell'economia le imprese però devono essere disposti al cambiamento per poter cogliere questa opportunità se no rischiano di essere far fatti fuori dal mercato come diceva prima il consigliere del del MIMS quello che è fondamentale da subito lo dobbiamo fare noi perché va fatto in tutti gli stati membri è attivare il dialogo multilivello previsto dal regolamento europeo legge europea sul clima tra l'altro non è una novità noi non l'abbiamo attivato ma era già nel regolamento del 2018 sull'unione dell'energia perché è in quella sede che le imprese le organizzazioni della società civile i giovani eccetera devono discutere le imprese in particolare devono chiedere non di frenare ci vuole qualcuno che guidi il dialogo chiedendogli diteci di cosa avete bisogno per alzare il vostro livello di ambizione va impostato in questo modo il discorso chiaramente questo costruisce il contesto per la giusta transizione che va precisato che non è un fondo perché nel fondo ci sono pochi soldi la giusta transizione è un principio in base al quale io progetto le politiche il contesto in cui di sistema in cui me le vado a a organizzare sarà quello del piano nazionale integrato clima ed energia perché lì faccio le scelte strategiche e quindi sugli obiettivi climatici settoriali quelli industriali piuttosto che quelli del patrimonio edilizio eccetera eolico piuttosto che fotovoltaico eccetera io lì andrò a capire gli impatti che questo poi avrà sui diversi settori i bisogni che avrò di trasferimento di mano d'opera di investimenti industriali da una parte all'altra quindi quello il quadro di contesto in ultimo con il pacchetto pronti per il 55% è stata anche introdotta questa novità del piano sociale per il clima che anche quello non è solo un fondo io faccio il piano poi vediamo i soldi se quelli del fondo bastano devo aggiungere altre risorse comunque le devo trovare il piano sociale per il clima non è solo per i cittadini le vulnerabili eccetera ma è precisato anche per le micro imprese e le micro imprese fanno parte del nostro sistema produttivo e in Italia sappiamo che sono davvero tante ci lasciamo qui io ringrazio tutti gli intervenuti che non sto a citare noi ce ne andiamo vi lasciamo con i prossimi appuntamenti di questa importante giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti